di battesimo in diretta tv, una scelta quella dell'esposizione della bambina che riceve anche diverse critiche tutte rispedite al mittente dalla showgirl lei è nata sotto i riflettori, non ha paura dei fotografi, dei flash, delle telecamere o delle persone e devo dire che condivisa non si è perso un attimo sono a favore, però ti ripeto non abbiamo le leggi adeguate in questo momento specialmente per i single e anche per le coppie è veramente difficoltoso quindi ben venga è una scelta troppo personale non è migliore delle mamme